La ITT di Bargio ha poco più di mille dipendenti che provengono dal Saluzzese, dal Pinerolese e dalle Valli. La proprietà è statunitense e produce pastiglie per freni per veicoli e l'azienda non ha mai dato segnali di crisi in questi anni. Martedì 12 aprile però è iniziato con l'avvio del primo turno alle 5 di mattina lo sciopero indetto in maniera unitaria da tutti i sindacati dello stabilimento. I lavoratori protestano per il mancato rinnovo del premio di risultato. Dopo diversi mesi che personalmente con la nuova RSU che è stata eletta circa 8 mesi fa abbiamo cercato di rinnovare un contratto ormai vecchio di 3 anni quasi e ci siamo trovati in una situazione un po' particolare. Uno perché ovviamente continuiamo a constatare che nonostante l'azienda riesca a raggiungere gli obiettivi che si pone poi di fatto non viene elargito nessun tipo di riconoscimento ai lavoratori. Cosa diversa che capita invece per pochi eletti? Normalmente capi responsabili che poi chi prima chi dopo comunque hanno preso e percepito determinate cifre ma si parla anche di cifre da 10 mila euro di premi quindi voglio dire cifre molto esagerate rispetto al fatto di non vedere niente per i lavoratori. Infatti penso che dopo forse più di 20 anni si rifà uno sciopero unitario sia come sigle sindacali ma soprattutto tra i lavoratori che vedono oggi qui non soltanto degli addetti alle macchine o delle collaudatrici ma anche gente tipo meccanici, elettricisti, colleghi del magazzino. C'è proprio un malcontento generale, lo dimostra anche l'adesione possiamo dire pressoché totale perché ovviamente a parte alcuni lavoratori interinali che per ovvi motivi di carattere contrattuale non se la sono sentita di essere qua ma che sono sicuro che con lo spirito sono qui con noi e di conseguenza sono dovuti entrare. Diversamente tutti gli altri per quanto riguarda già i primi due turni sono stati al 100% qui con noi. Preoccupazioni confermate anche dal sindacalista UGL Valterzino. Questa è un'azienda che comunque tutti gli anni consegue i suoi obiettivi, noi di controparte vediamo invece il nostro premio scendere tutti gli anni, vediamo una situazione di sicurezza che comunque lascia un po' il tempo che trova perché questo va bene, il premio di risultato è una grande cosa per cui ci siamo mobilitati ma non è solo questo, questo sciopero qua vuole anche essere il frutto di quello che si ha dentro, cioè si ha una situazione, uno stress di lavoro non indifferente, dei carichi di lavoro non indifferente, il tutto per il raggiungimento degli obiettivi che questi avvengono però con nessun riconoscimento per la maestranza perché poi non ci dimentichiamo che comunque alla fin fine la produzione la facciamo noi, i ragazzi che sono qui fuori e questo è stato un motivo di unione. Abbiamo avuto diversi infortuni, frutto di che cosa? Ho figli di che cosa? Probabilmente della troppa pressione e del troppo rincorrere gli obiettivi, almeno non è una giustificazione però questo non va, gli obiettivi loro li raggiungono, noi vediamo invece il nostro salario diminuire, c'è qualcosa che a noi non ci quadra anche perché è un'azienda sana che continua a fare utili e questa è la cosa che ci dispiace di più. E quindi adesso cosa succederà? Per noi vuol dire che ovviamente inizia un periodo, come dice la parola stessa, di agitazione e abbiamo iniziato con questo tipo di soluzione momentanea perché intanto volevamo anche pesarci e capire quanto malcontento c'era e come vedete appunto la risposta è stata eccezionale ma come diceva anche Walter Prima, il mio collega, ci sono altre soluzioni tra cui appunto il blocco dello straordinario che era una di quelle cose che vi avevo anticipato prima così come magari ovviamente ci possono essere altre iniziative, altre fermate magari durante le ore di lavoro, qualche sciopero con un'assemblea connessa, insomma ci sono diverse iniziative ovviamente è uno stato che si apre e si chiuderà solo esclusivamente quando l'azienda si siederà al tavolo per venire incontro alle nostre richieste.